C'è grande ramarico per la sconfitta della Consar Ravenna sul campo di Verona, Consar che gioca per lunghi tratti, addirittura meglio rispetto alla squadra veronese, costruita con canoni diversi rispetto ai romagnoli. Il primo set va via, sfugge dalle mani di Ravenna nonostante un vantaggio per 21-15. La battuta fa la differenza per Verona e i veronesi tornano sotto. Stessa cosa nel secondo set quando è Ravenna a rimontare ma poi a sprecare anche un set ball. Ancora una volta l'esperienza e la forza soprattutto dell'opposto di casa Buoyer riesce a fare la differenza e arriva la vittoria per Verona di nuovo ai vantaggi. Nel terzo set la Ravenna prova, mette in campo tutto quello che ha, compresa tanta determinazione, tanta voglia che contraddistingue sempre le partite dei veronesi e dei ravennati. Ma purtroppo Verona riesce ad avere la meglio 3-0, un 3-0 bugiardo. La Ravenna deve proseguire con grande tranquillità e serenità. La squadra di Graziosi cresce, c'è e tra poco avrà anche un'argenta in più nel motore. Sale sull'altalena invece la OMAG San Giovanni Marignano che riesce a conquistare soltanto due punti nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Montecchio. Primo e terzo set da buttare davvero per la squadra romagnola che ancora non ha trovato i ritmi giusti nonostante le tre vittorie consecutive che avevano preceduto questa partita. Però si salva, conquista due punti, fallisce l'aggancio con il secondo posto ma è il quarto successo consecutivo per la squadra di Saia che deve trarre insegnamento anche da questa partita. Vince 3-2 comunque la squadra marignanese. A riposo invece Conad Teodora Ravenna.